Ciao a tutti, io sono Giuseppe, sono un ragazzo di 22 anni che sta studiando educazione finanziaria. Oggi sono qui per parlarvi del metaverso, ma prima di iniziare con tutto ciò ci teno veramente tanto a ringraziare Silvio per avermi dato la possibilità di parlare di questo argomento all'interno del suo canale YouTube. Stiamo dal presupposto che il termine metaverso si sta sentendo soltanto recentemente, ma in realtà la parola metaverso è stata coniata nel 1992 grazie al romanzo di Neil Stephenson chiamato Snow Crash. In questo universo gli umani sotto forma di avatar interagiscono tra di loro in uno spazio tridimensionale, quindi possiamo dire virtuale. Comunque per capire un po' meglio questo metaverso vi basta anche pensare al film Tron, che è un film prodotto dalla Disney nel lontano 1982, considerato il primo film di fantascienza che si focalizza su una realtà virtuale. Quindi effettivamente stiamo parlando di un cyberspazio, una realtà aumentata. Credo che tutti voi abbiate Facebook, ovvero il social network più diffuso al mondo creato dal famoso Mark Zuckerberg. Esso stesso ha dichiarato che da anni sotto traccia Facebook stava lavorando a creare un metaverso, è ancora in fase di costruzione, ma vi basta pensare che direttamente Facebook è stata rinominata in meta. Meta sta per metaverso, quindi la direzione che sta prendendo Mark Zuckerberg è quella proprio di creare un metaverso. Adesso non è l'unico comunque a voler entrare in questo nuovo paradiso virtuale. Sicuramente l'unione tra gaming, quindi i videogiochi e poi la blockchain, quindi le criptovalute, o meglio la tecnologia che ci sta dietro, aiuterà ad entrare in questo metaverso e saranno coinvolti tantissimi settori, forse così tanti che attualmente neanche ci immaginiamo. Sarà un mondo dove si uniranno diverse realtà, quindi dal lavoro ai cantanti, agli artisti, alla scuola stessa e molto altro ancora. Il mondo si evolve in una maniera incredibilmente veloce, bisogna stare al passo per non perdersi opportunità come queste. Negli anni 90 si diceva che anche internet non avrebbe rivoluzionato il mondo e ora non riusciamo a starne senza. Quindi il metaverso sarà l'internet del futuro? Non si sa, ma vedendo comunque grosse società come Facebook, adesso chiamatasi Meta, Microsoft, Nike e molti altri brand ancora, secondo me la direzione sarà quella. La pandemia ha accelerato comunque il processo verso l'entrata dell'umanità nel mondo digitale, basti pensare alle scuole che hanno iniziato a ottenere le proprie lezioni tramite videochiamate sul Zoom. Siamo ancora all'inizio, c'è molto da sviluppare, ma sarà un mondo incredibile, pieno di possibilità, pieno di opportunità e dove si potrà fare letteralmente qualsiasi cosa. Io il metaverso l'ho immaginato un po' così, immaginatevi una persona che per x motivi non riesca ad andare fisicamente al mare, magari una persona anziana come può essere una nonna, ecco, immaginatevi se indossando una strumentazione riesca effettivamente, letteralmente, a trasportarsi in quella realtà virtuale, quindi essere veramente in spiaggia, ascoltare il rumore delle onde che si scagliano contro gli scogli, quindi effettivamente le persone potrebbero avere la sensazione di essere realmente coinvolte, di essere realmente in quel mondo lì. Voi lo vogliate o no? Il metaverso è in sviluppo ed è sempre più vicino e tantissime grosse aziende ci stanno investendo milioni e milioni di dollari, come può essere Adidas o come può essere Walmart. Walmart è il più grande supermercato negli Stati Uniti, è il più grande distributore alimentare. E cosa sta facendo? Sta creando un proprio metaverso nel quale le persone possono effettivamente prendere i prodotti digitali dagli scaffali e metterli nel proprio carrello virtuale, andare nella cassa e pagare con un token, quindi qua si collega anche il mondo NFT e cripto ed è un qualcosa di veramente figo. E poi la spesa? La spesa come vi arriva a casa? Vi arriva attraverso un drone. Questo è il futuro ragazzi, noi siamo qui in anticipo, ma questo è il futuro. Benvenuti nel metaverso. Benvenuti nel metaverso.